buongiorno o buonasera non so più perché siamo praticamente a metà della giornata io ho aspettato a fare questo video anzi ne avevo già registrato uno pochi minuti fa l'abbiamo bloccato subito perché come voleva si dimostrare aspetti 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 fai un video dicendo potrebbe essere superato dagli eventi e naturalmente gli eventi lo superano subito allora era inutile che mandassi in rete stavo per dire in onda deformazione professionale un video in cui c'era ancora l'attesa del comunicato della asla di napoli comunicato che è arrivato e che ufficialmente non blocca la trasferta del napoli pur accertando la presenza di un focolaio all'interno dello spogliatore napoletano specificando che naturalmente i provvedimenti diciamo così restrittivi riguardano i parenti stretti comunque i contatti stretti dei giocatori quelli ovviamente contagiati mentre al resto il resto è lasciato sostanzialmente al come dire all'attenersi alle normative che sono quelle di distanziamento dalla prudenza normalmente in vigore è chiaro che l'asla ha in un certo senso demandato la responsabilità del tutto nei confronti del napoli è altrettanto chiaro che norma la mano se il napoli non dovesse presentarsi a torino rischierebbe fortemente il 3 a 0 a tavolino ma soprattutto difficilmente vedrebbe accolto un ricorso come quello dell'anno scorso perché a questo punto l'asla non aveva fatto non ha emesso nessun provvedimento di blocco della trasferta siamo all'interno non proprio di cavilli però comunque se tanto mi da tanto mentre sto registrando il napoli dovrebbe partire per torino questo secondo me anche sulla scorta di quanto è accaduto giusto un paio d'ore prima concernente la trasferta del verona alla spezia verona con 8 più 2 mi sembra 8 giocatori più 2 dello staff o comunque un numero ancora maggiore di contagiati all'interno del gruppo squadra bene l'as non era intervenuta per bloccare la trasferta del verona alla spezia quindi probabilmente questo nell'immediato ha sostanzialmente costituito un precedente e quindi dovrebbe disputarsi regolarmente juventus napoli allo stadio in quali termini è inutile adesso star qua a citare cosa hanno detto altri a a parlare di campionato falsato o meno io resto della mia posizione espressa ieri o si rinviava tutta la giornata visto che in tutte le società in tutte le società ci sono dei positivi e ci sono società che hanno più di quelli della juve più di quelli del napoli oppure era giusto giocare questa questa partita allegri in conferenza stampa aveva detto noi facciamo sempre la conta abbiamo con questi giocatori li abbiamo ci alleniamo 11 giocatori da mandare in campo più le riserve ce le abbiamo e giochiamo per il resto ci sono gli organi competenti gli organi competenti si erano già espressi ossia la lega aveva escluso la possibilità di rinviare questa giornata anche perché onestamente ragazzi non ci sarebbero date per recuperarla e su questo già espresso direi abbastanza caldamente la mia opinione che ha trovato molti riscontri da parte vostra ho visto si è espressa anche l'azienda sanitaria locale di napoli e quindi juventus napoli si giocherà il napoli ha diverse defezioni dovute anche alla partecipazione alla coppa d'africa e ad infortuni osimen ha racchiuso un po tutto questo poi è stato esentato la coppa d'africa ma doveva fare la coppa d'africa si è fatto male seriamente e meno male che sta meglio in più ha preso il covid ma era fuori napoli era in nigeria in quarantena lozano covid ma via in messico mario rui squalificato covid ma squalificato non avrebbe giocato comunque la partita è chiaro che il napoli è una situazione difficile ma che dei giocatori dovessero partire per la coppa d'africa si sapeva anche quando sono stati acquistati questa è la situazione ragazzi ma generale generale il problema vero qual è il problema vero qual è che non si riesce a trovare una data per recuperare una giornata di campionato dopo io volevo ero già uscito da questo discorso dopo mi tocca rientrarci velocemente questo è il problema questo è il problema che non siamo attrezzati dal punto di vista del calendario per affrontare l'emergenza a meno che non si vada a scollinare in estate come era successo con l'hort down lì la situazione era stata addirittura pazzesca no tante giornate saltate ma qui anche una sola giornata ti fa slittare tutto perché poi ricominciano le coppe perché non sai dove collocarle perché magari napoli juventus eccetera intanto giocheranno fino a marzo le coppe e poi magari vanno avanti ma basta che ne vada avanti una sola e anche in tutte le altre squadre basta che vada avanti l'inter se viene bloccato tutta la giornata capite qual è il problema questo è il problema questo è il problema reale al di là per carità del discorso covid ma se rapportato al calcio questo è il problema reale questo è il problema reale che porta la lega calcio a dire si gioca lo stesso quando l'anno scorso magari non sarebbe due anni fa non sarebbe ovviamente successo e già l'anno scorso ci sarebbero stati dei problemi perché deve andare avanti il movimento perché deve andare avanti l'industria perché è così perché non ci sono l'industria calcio perché non c'è possibilità non c'è tempo le giornate sono di 24 ore non ci si possono inventare giornate più lunghe la juve è in attesa di sapere qualcosa su arthur ma quando anche dovesse negativizzarsi è difficile che possa essere convocata questa partita o al massimo se la vede in panchina quindi è fuori chiellini è fuori pinsoglio ma appunto non avrebbe giocato questa gara ci sono incertezze su quello che potrebbe essere lo schieramento perché ci sono i recuperi o meglio le disponibilità di dibale e chiesa da quello che ha detto massimiliano allegri mi è sembrato più di capire che la juve giocherebbe con un 4-3-3 perché parla di locatelli centrale e due dei centrocampisti accanto a lui se non ho capito male dalle sue parole quindi o McKennie e Bentancur o McKennie e Rabiot o Bentancur e Rabiot con locatelli in mezzo però però vedo delineare anche altri schieramenti un possibile 4-4-2 con chiesa a destra Dybala e Morata davanti non dovesse giocare chiesa allora sarebbe 4-3-3 con Morata, Ken e Dybala oppure Bernabeschi se Dybala dovesse stare dietro in panchina purului partire da panchina purului questi sono dettagli dei quali vedremo di occuparci maggiormente magari nel video di questa sera quando saremo in grado di dire effettivamente se il Napoli è partito per Torino se tanto mi da tanto dovrebbe essere così e la partita si dovrebbe appunto giocare ve l'ho già spiegato prima vi si vedevi al canale, iscrivetevi a quello di mio figlio, seguitemi sui social appuntamento tra poche ore diciamo così magari andiamo un pochino più tardi giusto per darvi il tempo anche di visionare questo video ciao ragazzi grazie